Approderà anche in consiglio comunale la questione dell'elisoccorso notturno a Domenia. Il PD ha infatti presentato un'interrogazione al sindaco Paolo Marchioni e all'assessore allo sport e bilancio Francesco Perrone dopo che un paio di settimane fa il presidente dell'omenia calcio Sebastiano Pizzi, ospite nel programma di lettanti per dire, aveva prospettato a fronte di mancate certezze sul nuovo impianto di illuminazione l'ipotesi di non concedere più il terreno dello stadio per l'atterraggio dell'elicottero visto che l'illuminazione provvisoria era stata realizzata a spese della società rossonera. L'amministrazione, attaccano i consiglieri democratici, Rondinelli, Oliveri e Galizzi, ci faccia sapere in maniera chiara come stanno le cose. Crediamo sia grave che si rischi di perdere il servizio del risoccorso notturno, ne andrebbe della sicurezza e della salute dei cittadini omeniesi. Si sta verificando quanto avevamo annunciato, quando si fanno tante promesse, alcune delle quali irrealizzabili, bisogna poi mantenere la parola data, altrimenti, giustamente, ti vengono a chiedere conto della mancata attuazione di queste promesse. Era stato sbandierato che finalmente si erano trovati soldi per un nuovo impianto di illuminazione allo stadio, moderno e funzionale, con tanto di accordo con la FIGC. Sono passati quasi dieci mesi, ma di concreto non abbiamo ancora visto nulla, e dunque crediamo che da qui nascano le prese di posizione dell'omenia calcio, concludono gli esponenti del Partito Democratico.